Avremo nelle prossime settimane diverse questioni di politica industriale che arrivano finalmente al dunque, mi riferisco per non fare nomi, alla questione Alitalia, per la quale è questione di ore, mi riferisco alla questione Ilva, perché noi abbiamo un tema che così com'è la situazione non si va avanti e quindi c'è bisogno di un cambio di passo sulla questione Ilva. Nel giro di qualche giorno, mi riferisco all'investimento sulle politiche industriali che va fatto intorno a diverse realtà del Paese, dal Sulcis a Termini Imerese fino al Profondo Nord con le situazioni che conosciamo e conoscete molto meglio di me.